Svela altri particolari il magistrato Marco Pedrini, una loggia segreta e deviata della quale avrebbe fatto parte anche lo stesso giudice arrestato per corruzione in atti giudiziari e successivamente scarcerato dopo aver ammesso le proprie responsabilità. La loggia coperta, composta da persone impegnate in ruoli professionali diversi, avrebbe operato lungo l'asse Catanzaro-Cosenza-Castrovillari, tutelando evidentemente precisi interessi e condizionando anche gli esiti di procedimenti giudiziari. I verbali degli interrogatori di Pedrini sono stati secretati dai magistrati inquirenti. Il togato, sospeso dal CSM, è stato sentito alla presenza dei suoi legali, gli avvocati Francesco Calderaro di Castrovillari e Agostino De Caro di Salerno. Tanti sono gli interrogativi che ci si può porre, ai quali sicuramente Pedrini avrà risposto, dove la misteriosa loggia si riuniva e chi la guidava e, soprattutto, chi erano gli iniziati. Si parla, ovviamente, di una struttura massonica, o meglio, una camera di compensazione estranea alle maggiori obbedienze italiane. Gazzetta del Sud di oggi riporta un'intervista di Stefano Bisi, il gran maestro dell'Oriente d'Italia. Parliamo dell'organizzazione massonica più grande d'Italia. Infatti c'è l'esigenza di capire di più su meccanismi interni al mondo esoterico, anche perché dell'esistenza di una sedicente loggia, già in regione, si parla dagli anni 90. Nell'intervista organizzata da Arcangelo Badolati, afferma Bisi, dice di non conoscere il giudice Pedrini e dice che, naturalmente, Pedrini non è iscritto al GOI. Bisi dice di non saper nulla sulle dichiarazioni. Alla domanda, c'è la possibilità che esistano loggie coperte? Non esistono loggie coperte, né fratelli riservati del GOI, già dalla gran maestranza di Armando Corona, risalente all'82, afferma Bisi. Noi non abbiamo nulla da nascondere, Licio Genni venne espulso e mai riammesso. Dunque, nella più importante organizzazione massonica italiana, non esistono più fratelli segreti, che non possono essere iscritti senza che lo sappia il gran maestro. Dice assolutamente no.